sono gloria marcarini buongiorno e sono un assistente sociale del comune di asti e vi presento il centro per le famiglie è un servizio del comune di asti che si trova in piazza roma numero 4 l'equip del centro per le famiglie è composta da due assistenti sociali da degli educatori professionali da una psicologa psicoterapeuta e da un'operatrice socio sanitaria io sono cristina giorgione educatrice del centro per le famiglie cooperativa progetto a nel centro per le famiglie si fanno diverse attività per la fascia d'età 0 6 anni quindi per bambini per genitori per famiglie ho fatto delle attività con delle mamme di origine marocchina abbiamo fatto gioco danza letture collaboriamo con diverse associazioni del territorio come ad esempio genitori insieme nati per leggere e da spazio appunto è aperto per varie iniziative buongiorno sono mariangela ortolan educatrice professionale del servizi sociali del comune di asti mi occupo qui all'interno del centro per le famiglie di ascolto dei cittadini delle famiglie dei bambini dei ragazzi per costruire insieme ai miei colleghi dell'equip del centro famiglie delle risposte dei progetti delle attività per le famiglie sono un insediante di massaggio infantile dell'associazione italiana di massaggio infantile e mi occupo di corsi di massaggio infantile dove promuoviamo il contatto profondo tra mamme papà bambini per sperimentare situazioni di benessere e crescere in un clima di fiducia e di serenità grazie grazie grazie